Dell'equitazione mi piace l'empatia, il rapporto che si crea con l'animale, un trasferimento di emozioni, tu dai delle emozioni e ricevi delle altre, ma va oltre il gesto atletico, il gesto tecnico, proprio un'empatia particolare che nessuno sport può avere. Sono Gerardo Cavaliere e la mia passione è l'equitazione. Il cavallo per me nella vita è stata prima un capriccio di un bambino, poi una passione di un adolescente, poi un obiettivo di un adulto e adesso è una passione che mi permette di svagarmi completamente da tutto quello che ci gira intorno tutti i giorni. Questo sport è un insieme di insegnamenti, ti insegna ad essere sensibile, ti insegna ad essere duro quando bisogna essere duro, fare delle cose in maniera costante e precisa, essere concentrati ma non nervosi, non tesi, poterlo fare in maniera leggera, poterlo fare in maniera spontanea.